Ebbene carissimi amici ben ritrovati sul mio canale youtube una buona serata a tutti voi siamo nel nostro appuntamento insieme di analisi e estrazione prima estrazione mensile martedì 3 di settembre il mese di settembre cari amici si apre alla grandissima la settimana si apre alla grande perché la mia trilogia metodi lotto la data vince anche questa sera con il metodo lotto la data super con il 21 preso secco a bari in quarta posizione al primo colpo di gioco è l'ambetto 21 18 questa cari amici è la testimonianza vincente 21 17 ho dato un solo ambo secco settimanale ambo e ambetto mi raccomando a giocare l'ambetto perché sono solo due numeri se noi ci andiamo a beccare un ambetto ogni settimana sono soldini mi raccomando questi sono i cedolini degli utenti che mi seguono che mi seguono con costanza con fiducia questo è il 90 di Cagliari che poi ne parliamo questi sono gli utenti che mi seguono con fiducia con costanza e che hanno capito che la trilogia metodi lotto la data è una bomba assoluta vincente la settimana scorsa abbiamo portato a casa un altro ambetto con la data plus però adesso vinciamo con la data super un altro ambetto a ruota e parliamo di metodi che non è che giocano 20 numeri parliamo di metodi che giocano un solo ambo due numeri due numeri un solo ambo su due ruote cari amici è quattro colpi perché io calcolo al sabato e noi giochiamo dal martedì al sabato quattro colpi a colpo secco data super 21 18 ambetto secco a bari mi raccomando a questi metodi questa settimana abbiamo il 40 secco bari Cagliari data base prima e seconda posizione il 9 data plus seconda e quarta posizione e la data super il 21 seconda e quarta posizione attenzione che il 21 può anche risortire perché sapete che bari Cagliari i numeri si ripetono di continuo mi raccomando a non perdere questi metodi nella versione completa io vi do un solo abbinamento giochiamo ambo e ambetto si paga alla vincita o di ambo o di ambetto secco bari Cagliari quattro colpi di gioco ogni settimana cambia la previsione metodi lotto la data un'opera pazzesca cari amici fuori dal normale collezioniamo vincite di continuo ambi secchi e stratti determinati ambetti di continuo contattatemi via whatsapp al 348 75 47 715 come al solito per aderire alle previsioni quindi cosa dire poi di questo grande 90 cari amici voglio vedere chi l'ha perso voglio vedere chi l'ha perso vi ho dato il 90 vi ho detto secco in ristretto bari Cagliari quarta e quinta posizione in ristretto bari Cagliari quarta e quinta posizione chi mi segue vince chi mi ascolta vince chi ha fiducia in me vince 90 Cagliari quarta posizione eccolo qua 90 Cagliari quarta posizione ci siamo portati a casa bei soldini soltanto con l'estratto determinato e la mia spia 53 di firenze che vi avevo presentato sul mio canale youtube che portava proprio il 90 su unica ruota di Cagliari ve l'ho regalato il 90 secco a Cagliari e lo abbiamo centrato un'altra volta con i miei metodi spia i miei metodi spia quando vanno a stabilire che il 90 esce su quella ruota arriva su quella ruota bene attenti cari amici a seguirmi per questo mese di settembre le mie spie le mie spie non vanno perse una sola ruota 5 ambi tutta unica ruota si paga la vincita solo dell'ambosecco il metodo ve lo regalo rimane sempre vostro anche qui potete contattarmi via whatsapp al 348 75 47 715 ma la scorsa estrazione vi ho fatto vedere che Cagliari portava ancora il gemello in terza portava il distanza 1 21 22 vi ho detto attenzione perché quel 90 di palermo sortito due volte adesso arriva a Cagliari perché Cagliari portava un doppio gemello in terza in due estrazioni consecutive e 77 22 faceva 9 girato 90 quindi guardate i miei segnalatori come poi vanno a colpire li mettiamo insieme e vanno a colpire attenzione perché vi annuncio poi lo presenterò a parte arriveranno tutte le mie proposte mensili come ogni mese il 90 segreto in questo mese di settembre ci porta due ruote particolari Milano e Venezia Venezia c'è un 90 atteso e Milano lo potrebbe riportare questa sera Milano un ambo di cadenza 23 83 e Venezia porta un 45 figura 9 in diagonale con la nazionale che fa 90 vi ho detto che la nazionale una ruota jolly lo potete puntare questa sera nazionale porta un ambo di figura 9 36 45 poi continua a piacermi la ruota di Bari questa sera Bari porta il 18 figura 9 in prima quindi chi vuole può puntare Bari ristretto 96 con una sola ruota quarta e quinta posizione e chiaramente seguire le ruote del 90 segreto Milano e Venezia quarta e quinta posizione poi vediamo a distanza 1 a Firenze 14 e 15 la cadenza 6 in terza molto importante con questo 86 il 9 l'84 dice sì al 90 Genova guardate Genova Torino a conferma e un altro 84 dice sì al 90 di Napoli quindi Bari Napoli quindi guardate come quale estrazionale ci porta ancora bellissime segnalazioni Palermo 39 ottimo segnalatore col 45 figura 9 in terza Isotopia con Roma 72 45 quindi un quadro estrazionale che ci apre molto bene il mese di settembre seguitemi mi raccomando e vi ho detto sempre seguitemi sulla trilogia la data e seguitemi sulle spie del 90 perché andiamo ogni mese costantemente a vincere ci sono i fatti reali e documentati con tanto di cedolini mi raccomando seguitemi su queste due proposte chi vuole giocare il 90 prende le spie chi vuole giocare baricalia nel ristretto ambiambetto prende i metodi chi riesce a giocare l'intera trilogia bene, altrimenti se ne prende anche uno o due si va comunque a vincere perché sono tre metodi favolosi quindi vediamo cosa possiamo dire ancora un 90 che su Cagliari ve l'ho fatto sbancare c'è poco da dire ve l'ho fatto sbancare perché ve l'ho praticamente quasi garantito su Bari Cagliari vi ho dato la posizione ve l'ho indicato con la spia 53 di Firenze a ruota unica quindi un 90 che so benissimo che tanti di voi lo hanno portato a casa chi vuole può inviarmi i cedolini al mio whatsapp 348 75 47 715 diversi segnali anche sulle altre ruote abbiamo visto questi due 84 su Genova-Napoli Firenze anche una bella ruota si vede benissimo che è una ruota in grande frequenza ci siamo portati a casa un bel 90 e 20 nel mese di agosto della mia spia quindi vedremo cosa ci porteranno le spie per questo mese di settembre intanto le tre ambate della data ve le ho date 49 e 21 chi vuole le può mettere anche in terzina e amboterno Baricagliari nazionale e tutte non si sa mai che arrivi qualche colpaccio estrazione di giovedì 5 settembre avremo 5 6 e 7 le tre estrazioni consecutive giovedì, venerdì e salve per questa prima settimana di settembre si aprirà un nuovo mese di gioco arriverà il 90 segreto la tabella e numeretti l'attesissimo diario del mister i miei metodi mensili sono andati fortissimo in questo mese di gioco ancora oggi per esempio paga l'incrocio vincente con il 21 a Bac e l'ultimissimo colpo in quarta posizione quindi metodi che sono andati fortissimo chi fosse interessato ai miei metodi può contattarmi sempre via Whatsapp o per il singolo metodo o per il pacchetto metodi in grande promozione detto questo vediamo un po' cosa possiamo dire ancora bella questa cadenza 8 baricale 18 28 68 questa bella sequenza 86 e 4 guardate diagonale di somma 90 Firenze e Genova poi vediamo se c'è ancora qualcosa c'è un triangolo di numeretti Roma Torino 137 e direi che abbiamo detto un po' tutto quindi ci siamo appuntamento all'estrazione di giovedì 5 di settembre per adesso saluto a tutti qui misto se banchò